Buonasera, D'Alessio Bompasso, bentornati a Doctor Sport. Beh, quella di oggi è una puntata riassuntiva, se vogliamo. Perché? Perché è successo un bel po' di roba prima di Pasqua. Allora dobbiamo fare il punto, dobbiamo farlo soprattutto nel calcio calabrese, partendo dalla Serie B e poi Lega Pro e Serie D, guardando ovviamente a quello che succederà nel prossimo weekend. Un weekend che inizierà praticamente subito in Serie B, venerdì già in campo, il Crotone che arriva proprio dal pareggio con Lavellino, un pareggio che ha fatto sì, ha fatto scivolare la truppa pitagorica al secondo posto, ma non cambia la sostanza. Il Crotone è sempre più vicino alla Serie A e alla vigilia appunto del match, perché di fatto lo siamo già, come abbiamo detto, venerdì. Una partita importantissima, altro tassello contro il Lanciano. Prima di questo però andiamo a riassumere un po' quello che è oggi il campionato di Serie B, alla luce insomma dei risultati, di quello che è successo e poi anche alla nuova classifica. Calvicenza si è imposto in trasferta sul campo dell'Ascoli per 2-1 e poi come dicevamo lo 0-0 tra Vellino e Crotone, il 3-0 del Cesena sul Latina, Cesena che oggi è l'avversario numero uno del Crotone, ma anche del Cagliari, in chiave promozione diretta, ma il distacco lo vedremo tra pochissimo, è ancora enorme. Poi come Entella 1-1 il Perugia si è imposto a domicilio sul campo del Lanciano per 1-0, stessa cosa lo ha fatto la Provercelli sul campo del Livorno, 1-0 e poi il Cagliari in trasferta 2-1 sul Modena, stesso risultato tra Spezia e Trapani e poi la Ternana 1-0, pesantissimo sull'Ascoli, 0-0 tra Brescia e Novara e poi il Pirotecnico 3-4 tra Salernitana e Bari, 7 gol a spuntarla. È stata la squadra pugliese, questa la nuova classifica, la andiamo a leggere insieme con il Cagliari, come dicevamo che ha sorpassato ancora una volta il Crotone a 68 punti, Pitacorici a 67, poi il Gradino con il Cesena 53 insieme al Novara e al Bari adesso, poi lo Spezia 51, l'Entella, il Brescia e il Trapani a 50, superato anche il Pescara che resta fermo con le 4 frecce a 49 punti, Perugia a 47, Avellino a 44, Ternana a 43, Lanciano a 39, Provercelli a 37, 36 punti per Latina ed Ascoli, 35 per il Modena, 34 per il Vicenza, 33 per il Livorno, Salernitana a 31 e Como che chiude la classifica di Serie B con 27 punti. Dicevamo però un Crotone che guarda indietro e quindi al pareggio con l'Avellino, ma guarda soprattutto avanti alla sfida contro il Lanciano, guardate. Archiviata la pratica Avellino, finita a rete inviolate, il Crotone si rimette al lavoro in vista della prossima gara di venerdì contro il Lanciano, anticipo che aprirà la giornata numero 31 di campionato. Un match che vedrà sfidarsi due squadre con obiettivi opposti. Gli squali, ora secondi in classifica, alla ricerca dei tre punti forse decisivi per la promozione in Serie A, ma comunque utili a mettere la freccia sul Cagliari e allungare ulteriormente sulle inseguitrici, mentre gli abruzzesi, dopo una serie di risultati positivi e vittorie, con la voglia di riscatto, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Perugia. Mancano ormai nove giornate alla fine del campionato e quello contro il Lanciano potrebbe essere il match point, viste le gare in contemporanea Cagliari-Spezia e Cesena-Bari. Juric potrà contare su Budimir rientrato dopo il turno di squalifica, punto interrogativo su Ricci. Da valutare invece le condizioni di Yao e Sabbione alle prese con problemi muscolari. Queste le ultimissime, quindi in casa a Pitagorica, si guarda già avanti, si guarda già oltre, come fa tra l'altro mister Ivan Juric, sentite. È stata sì partita equilibrata, penso che secondo tempo abbiamo condotto partita sempre noi, sono d'accordo con te che non siamo stati molto brillanti, questo sicuramente. A merito anche Evald Avelino che ha affrontato gara con grande volontà, però è un punto, quando fai fuori casa Avelino, è un gran bel punto secondo me. Ma lui durante la sua storia ha fatto sempre 4-3-3, io ogni tanto facevo 4-3-1-2, per cui durante la settimana ci siamo preparati per queste due opzioni. Poi quando ho visto che non gioca Mokolo dall'inizio, era chiaro che giocano 4-3-3, per cui tatticamente è andato tutto a posto, non abbiamo avuto problemi. Penso alla prossima, che secondo me è per noi una sfida magari più importante della storia di Crotone, perché affrontiamo Lanciano in casa e dobbiamo veramente prepararla molto bene. Si ritorna in casa, quindi si ritorna a Lezio Scida, per, e lo ha detto anche Ivan Juric, la gara più importante della storia del Crotone, quella che ancora ovviamente non può dare l'aritmetica promozione in Serie A, ma può dare un altro tassello fondamentale alla formazione rosso-blu. Andiamo a vedere e a leggere insieme il prossimo turno, detto appunto della sfida del Lezio Scida tra il Crotone ed il Lanciano, e poi Cagliari-Spezia e Latina-Avellino, ma anche Perugia-Ascoli, Pescara-Como, Provercelli-Modena, Trapani-Brescia, Vicenza-Livorno, Virtus-Entella-Ternana, Novara-Selernitana e Bari-Cesena. Insomma, tanti scontri diretti in bocca al lupo, soprattutto al Crotone. Torneremo ovviamente in settimana sui temi rosso-blu, ma torneremo e parliamo oggi anche di Lega Pro, con quello che è un po' successo nel weekend pre-Pasquale, un weekend già iniziato a metà settimana dal Carranzaro, vittoria prima del 2016 sulla lupa Castelli-Romani, e poi un turno chiuso dalla Cosenza, con una sconfitta amarissima contro il Lecce. Lecce è finita 3-4 proprio per i Salentini, andiamo a leggere velocemente i risultati, poi andiamo a leggere soprattutto la nuova classifica, perché è cambiato un po' tutto quasi, nel girone C di Lega Pro. Ischia Paganese è finita con la vittoria della Paganese in trasferta per 2-0, altra vittoria importante in trasferta, quella del Benevento sul campo della Juve Stabia per 1-0. Il Matera ha bastato e avanzato un gol per battere il Martina Franca, 2-2 gol come abbiamo detto del Carranzaro sulla lupa Castelli-Romani, e poi il poker della Casertana rifilato all'Acregas. Il 2-1 delle Catania sul Messina, e il successo in esterna dell'Andrea sul campo del Melfi per 1-0, quello del Foggia su quello del Monopoli invece per 3-1, e poi dicevamo il Cosenza che si è imposto sul Lecce per 3-4. Questo insomma è quello che è successo, andiamo però a sintetizzare un po' e a riassumere i temi dell'ultimo turno di Lega Pro in questo servizio. Si spezza nella vigilia di Pasqua l'imbattibilità casalinga del Cosenza, Almarulla passa il Lecce per 4-3, i pugliesi sono i primi a farlo, dopo quasi un anno, a pesare come un macigno sulle spalle rosso-blu. La poca attenzione è in fase difensiva, appunto. La prima sconfitta casalinga arriva al termine di una gara incredibile, ricca di gol, occasioni ma anche imprecisioni da una parte e dall'altra. Un festival che chiude in maniera spettacolare la ventottesima giornata di Lega Pro, un turno in cui il Benevento conferma la supremazia sbancando Castellammare di Stabbi e il Foggia fa un bel favore al Catanzaro battendo il Monopoli. Le Aquila Gielorosse spezzano l'incantesimo infilando il primo successo del 2016 sul campo della Lupa Castelli e restano davanti al Catania e ai pugliesi. Dall'altra parte della classifica e dopo il capò contro i Salentini, i Silani perdono così la quarta piazza dove adesso c'è la casertana reduce dal poker rifilato all'Akragas. Insomma, la giornata pasquale ha rimesso tutto, quasi, in discussione e sabato si ritorna in campo. Il Cosenza sfiderà a domicilio il Monopoli, un match a cui guarderà con attenzione il Catanzaro di Alessandro Erra impegnato domenica a Messina. E allora, riflettori puntati, come si evince insomma da quello che abbiamo letto in classifica, soprattutto sulle due Calabrese in testa come in coda sul Cosenza ma anche sul Catanzaro. Catanzaro è impegnato in un altro match fondamentale per la salvezza. Andiamo a sentire che si respira in casa giallorossa dalle parole del capitano proprio dell'US, Tommaso Squillace. Speriamo che questa vittoria ci aiuti a acquistare un po' di autostima in più e ripartiamo da qui, dai. Oggi comincia un altro campionato. Sì, che per forza già ce l'avevamo detti prima di questa partita che da oggi per noi è iniziare veramente un altro campionato dove comunque affrontiamo tutte le squadre alla nostra portata, diciamo. Quindi da adesso in poi ovviamente guardiamo sì i risultati delle altre però comunque dobbiamo pensare a noi stessi perché comunque al momento siamo salvi quindi la salvezza dipende soltanto da noi adesso. Quindi pensiamo partita dopo partita a fare più punti possibili da qui alla fine. Questo era Tommaso Squillace capitano del Catanzaro guardando al prossimo match proprio in casa giallorossa. Da Catanzaro a Cosenza il passo è breve andiamo a sentire però Giorgio Roselli qui parla il tecnico. Dopo aver fatto un grande sforzo per recuperare il primo e un grande sforzo per recuperare il secondo è normale che quello ci ha tagliato un attimo le gambe e abbiamo commesso due errori che contro giocatori squadre come queste ti castigano. Altre volte magari l'abbiamo fatti lo stesso io per primo ma più difficile che ti castigano queste squadre due errori, due gol hanno il 100% di percentuale se sbagli così è successo però ripeto una prestazione probabilmente la migliore da quando sono in Iacosenza dunque bisogna solo ringraziare questi ragazzi che danno sempre il 110% e mi auguro da qui alla fine lo stesso. Tre gol noi non siamo proprio quel tipo di squadra è la dimostrazione che il calcio è un gioco d'abilità e quando ci sono dei giocatori abilissimi puoi giocare bene puoi fare dei gol puoi perdere. questa è proprio la sintesi del calcio che per noi che da tanti anni che giriamo è abbastanza normale e ripeto però oggi di negativo c'è veramente solo il risultato e dunque noi dobbiamo ripartire da una grande prestazione per finire tanto per giocare domenico una partita un altro spareggio lì a Monopoli perché Monopoli si sta giocando il play out dunque sarà molto difficile ma la cosa che conta è questa avere questo tipo di approccio di squadra perché veramente oggi i ragazzi hanno dato tutto e mi hanno soddisfatto anche e soprattutto sul piano del gioco Giorgio Roselli tecnico del Cosenza che guardava ovviamente al K.O. interno il primo della stagione contro il Lecce ma che guardava soprattutto la prossima sfida quella contro il Monopoli un match che guarderà con attenzione anche il Catanzaro che invece poi sfiderà il Messina questo è il prossimo turno di Lega Pro l'andiamo a leggere insieme Acregas Martina Franca Fidelisandra Juve Stabbi Lupa Castelli Romanica Sertana Monopoli Cosenza come detto Benevento Ischia Messina Catanzaro ma anche Lecce contro Matera Paganese Melfi e Foggia Catania Dalla Lega Pro passiamo velocemente al campionato di Serie D non si è giocato nel weekend si guarda ovviamente al prossimo turno ed è un turno quasi decisivo Due giorni di riposo ed oggi tutti nuovamente al lavoro la sosta pasquale è già un ricordo per le compagini di Serie D non potrebbe essere altrimenti a poche partite dal termine a poche settimane dal gong aprile tra l'altro è il mese decisivo tanto in vetta quanto in coda e se per il salto di categoria per direttissima sembra ormai una corsa a tre più complicato è il discorso playoff in piena bagarra due calabresi Vibonese e Reggio Calabria nelle ultime sette partite la squadra di Gaetano Di Maria è la migliore del torneo più punti in anellati più gol fatti e meno reti subite inversamente proporzionale invece il cammino amaranto nello stesso lasso di tempo infatti i Cosa Boys hanno sgretolato tutto il vantaggio accumulato sulle dirette concorrenti agli spareggi Vibonese è compresa e se Rosso Blu saranno chiamati ad un altro scontro diretto contro la Versa Normanna i regini reduci dal K.O. con lo Scordia dovranno giocare anche contro il fattore derby alla ripresa lì Castro e compagni saranno impegnati sul campo della Palmese che nel frattempo è sprofondata in zona retrocessione e da qualche giorno ha cambiato tecnico via Salerno dentro dal Torrione infuocata quella zona della classifica con la vigor chiamata al colpaccio contro la Cavese il Rende che proverà ad allungare la striscia positiva contro la Leonfortese ed il Roccella al momento fuori dalla zona rossa della graduatoria impegnato a Marsala E allora questi i temi caldi in serie D temi tra l'altro di cui discuteremo ampiamente nella puntata di domani Doctor Sport dedicata al massimo torneo di lettanti insieme a Nicola Galloro nel frattempo andiamo a leggere insieme il prossimo turno occhio particolare alle Calabresi Vibonese contro Versa Normanna questo è uno scontro diretto per i play-off la Vigor Lamezzi invece attesa da una sfida probante difficilissima contro la Cavese e poi frattese due torri Gragnano Gelbison rende Leonfortese anche qui sfida particolare in chiave salvezza Scordia notto Siracusa Sarnese il super derby di Calabria tra Palmese e Reggio Calabria e poi anche qui la sfida salvezza tra Marsala e Roccella torneremo a parlare di serie D come detto con Nicola Galloro nella puntata di domani nel frattempo buona serata dalle sue buon passo grazie a tutti Grazie a tutti.